Il museo civico della città di Fano per i capolavori di reperti storici che ospita è da sempre uno dei siti più visitati dalle migliaia di turisti che ogni anno arrivano a Fano. L'interesse è duplice in quanto le raccolte civiche della città sono costudite in un palazzo che esso stesso è parte della storia della città ed è luogo di visite guidate. Il palazzo malatestiano con la sua splendida corte voluto da Pandolfo III Malatesti edificato nella prima metà del Quattrocento. Oltre alla pinacoteca che contiene i capolavori del Guercino e di Giovanni Santi, la sezione archeologica rappresenta un punto cardine della visita ai musei con le sue varie sezioni, soprattutto la Sala della Fortuna che contiene la statua della Dea Fortuna appunto. Ora queste sezioni, per volere della sovrintendenza di Ancona, sono state chiuse. Alcuni reperti più grandi sono stati imballati e chiusi, altri portati via e sono nei depositi della sovrintendenza di Ancona. I locali necessitano di adeguamenti strutturali e in materia di sicurezza, secondo le normative, e che possano far risaltare degnamente i capolavori contenuti in ambienti che furono concepiti negli anni 20. Ma sui tempi di questo intervento e perché si è aspettato tanto e soprattutto se rientreremo in possesso dei nostri beni archeologici, i Cinque Stelle e Fanesi pretendono risposte chiare dall'amministrazione comunale. Stranamente a settembre, all'inizio di settembre, il nostro museo è stato chiuso per ristrutturazione, così perlomeno c'è scritto sui cartelli. Diciamo ancora il turismo era assolutamente vivo. Diciamo la parte superiore, come vedete anche dalle immagini, con le impalcature, si sta appunto ristrutturando per mettere a posto il tetto. Mentre nella parte inferiore, diciamo, della sezione archeologica, la situazione è molto più ingarbugliata e difficile. In effetti, per motivi di sicurezza, riguardo soprattutto a furti, eventuali furti, ma anche per quanto riguarda l'impiantistica interna, la parte appunto della sezione archeologica, al piano terra, è stata chiusa dalla sovrintendenza. Nessuno sapeva nulla di questo. La sovrintendenza, in effetti, da tantissimi mesi aveva mandato lettere di sollecitazione per mettere, diciamo, a posto questa situazione abbastanza incresciosa. Il comune è stato del tutto inerte, tanto che appunto a settembre la sovrintendenza si è vista, diciamo, dare l'ordine al comune di Fano di chiudere il museo nella sezione archeologica. Ma la situazione è ancora più grave, perché parte dei reperti appartenenti al comune stesso sono stati invallati e chiusi in una stanza apposita all'interno del museo stesso. Ma una gran parte di reperti che invece appartengono allo Stato sono stati presi dalla sovrintendenza stessa e trasferiti, pensiamo, nella città di Ancona, in qualche magazzino della sovrintendenza stessa. Quindi con un rischio, secondo me, molto alto, che anche quando le condizioni eventualmente verranno ristabilite, questi reperti possono tornare al comune di Fano. Per questo abbiamo presentato un'interpellanza per chiedere appunto com'è la situazione, per avere i documenti e tutte le lettere di sollecitazione da parte della sovrintendenza e per capire se ci sono soldi a disposizione oppure se dovranno ancora essere trovati per mettere appunto la situazione nei giusti binari.